Tocca la carta che lo prendo, 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 non vuoi sapere niente, prendo, guarda bene, fa vedere in camera che non voglio vedere, allora devo farla vedere in camera, è importantissimo, bravissimo Marizio, ora metti la carta dentro dove vuoi tu, dove vuoi, dove vuoi tu, tieni le carte tu stesso in mano, io voglio sapere niente, sei raccordo Marizio che tu hai scelto la carta che mi ha detto? La carta che ti vuoi, punto stop, che vuoi vedere, adesso proviamo a fare una cosa in casa, guardami bene, uno, due, tre, centinaio, no devo guardare una muolizione, è importantissimo perché il mentalismo oculare a che fare con lo sguardo è difficilissimo, però se lo vado, guardami, uno, due, tre, fourci, cinque spazioie, ho un due, tre, può essere, però mi il fiero, me ne ho un cuore, ho un quadro, ho un cuore, ho un cuore, un cuore, un due di cuore può essere era un due di picche? no, era cuore allora è la mia memoria non mi sono concentrato no, no, no non mi sono concentrato allora guarda tu stesso adesso, guarda tu stesso Marizzo concentrati piano guarda che che avevo fatto a venirti a salutare oh carica, carissimo tutto bene? tutto bene lui è sempre con le figole è sempre benissimo